Oh, mo' è ripristinato, eh! Ti butta giù! Perché rompi giù le piante secche? Sempre che non si è incasinata, eh! Aspetta perché! Bisogna vedere che non si è incasinata, sennò scendiamo di là, eh! Perché se c'è giù le piante scendiamo da questa, eh! No, perché va dentro tutti quanti, non torna dietro più di lì! No, perché di lì c'è anche l'altra che sale fino a su sopra! Oh, lui scende l'oltre! Sotto lì ci passiamo, ci sono sempre passati, sia di qua che di lì! Ma lui vuole andare su a fare quella alta che va dietro! Ti ricordi che va su dietro e poi scendiamo sotto la bambina! No, di là c'è quella che va su al foco, ma di là! Eh, ma dopo devi su tutte le piante! Bravo! Vieni giù da lì, da lì cosa c'è? Niente! Allora! Lo so, ma anche questa faceva giro sotto! Ma secondo me scendiamo, andiamo giù sotto e basta! Dai, dai! Scendiamo giù sotto e basta! Dai, dai! Scendiamo giù sotto e basta! Dai, dai, dai! E dove ho spinto 3 l'anno scorso io! Ah, ma si riesce! Si riesce! Guarda che non so che sono le piante grosse! Oh, è pieno giù! Eh, lo saliamo! No, no! Saliamo al pozzo! O scendiamo da lì e basta! Scendiamo da lì e basta! Si va via! Ci mettiamo quello! Ci guardi qui! Sì! Se no, qua usciamo al pozzo che lì l'avevamo pulita anche lì, però... Lo facciamo al contrario! Dai! Al pozzo! E dopo gli eravamo girati intorno, ma scendiamo da lì e basta! No, da lì! Da quella lì che scende da scorso! Dove il Gargamel ha fatto il super volé! Questa si chiama discesa del topo morto perché aveva trovato il topo morto qua! Sì! Andiamo giù di là! Ve l'ho detto che venivamo qua per niente! Dobbiamo scendere da sotto, non da qua! Vai, vai! Sì! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.